Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video, oggi sono qui in questo nuovo episodio di Skygrind Allora, uno, ho fatto un letto, finalmente avevo delle stringhe, ho fatto la lana, poi avevo anche un pezzo di lana che mi aveva droppato la pecora e quindi abbiamo fatto il letto Poi ho ingrandito questa struttura e adesso come vedete non... Oh! Non ci sono solo gli scheletri, facciamo così va Ma come potete vedere c'è un po' di gente, ok? Abbiamo fatto un po' di pulizia, eh non tantissima Allora, come vedete adesso là è tutto più grande, ho chiuso anche l'acqua che c'era perché comunque una fonte infinita ce l'ho già alle canne da zucchero quindi ho chiuso l'acqua che mi dava un po' fastidio E adesso se riusciamo ad entrare magari mi farebbe anche piacere Perfetto, siamo dentro e quindi qua ho preso un altro po' di ferro grazie a questi scheletri Ecco un altro pezzo, grazie Ho preso un po' di ferro, un po' di cobblestone e anche un po' di carbone in più Adesso vi faccio vedere anche le cesto che le ho sistemate Qui ho messo tutta la robaccia, qua ho messo i blocchi e le robe più preziose E poi non mi hanno droppato altri diamanti scheletri laggiù Ho messo i nether wart anche da questa parte dato che anche qui c'era della soul sand E come vedete scavando ho trovato anche della resta, anche adesso prendiamo Poi la quest numero 12 mi dice di craftare uno stack di nether wart Perfetto, e noi ne abbiamo 50 e qualcosa nella cesto 53 nella cesto, più questi che ci sono qua piantati Arriviamo precisi a 64 E comunque adesso ne ho presi altri 3 in più Quindi 64, si è qualcosa Più di 64 Quindi 62 E poi qua ne prendiamo 2 e gli altri li lasciamo Quindi 1 e 2, perfetto E quindi ecco qua uno stack di nether wart Ok, your next quest is to breathe a splash potion of fire resistance Ok, dobbiamo fare una pozione della fire resistance che si fa con la magma cream WTF, che struttura è quella? Vediamo un po' cosa troviamo Se c'è qualcosa di interessante o no In teoria ci dovrebbe stare Allora, vediamo Io arrivo qua E ci sono delle particelle random che continuano a muoversi Qua sotto, ossidiana Ghiaia Sabbia C'è uno spawner C'è una cesto Cosa ci sta qua? Ragazzi, è ovvio, devo andare nel nether Ci ho messo un po' a capirlo, devo dire Però, guardando tutta questa ossidiana Ho pensato che devo andare nel nether A prendere tutti i vari oggetti Quindi adesso stavo rompendo un po' qua Perché ho appena finito di prendere l'ossidiana Però volevo rendere il tutto un po' più normale Dato che fa schifo sta struttura E mettere poi qua il portale del nether Quindi facciamo così Prendiamo questi blocchi E poi mentre rompevo la gravel Mi hanno droppato anche un pezzo di flint Quindi possiamo fare anche l'accerino Quindi siamo messi a posto Allora, questo qua Questo lo possiamo anche togliere Anche queste scale Ok Ho un po' di spazio Quindi i dieci pezzi precisi che ho preso Li prendiamo e li mettiamo qui Quindi uno, due Poi prendiamo questi Uno, due e tre Poi di qua Via questo, vabbè Uno, due, tre C'è una fence E tre, sì Poi questo, questo Non lo riesce a mettere Vabbè E mi servono questi due Sti cacchio di particelle Mi danno un fastidio assurdo Ora, andiamo a fare l'accendino Qua ci sono altri netherworld Che prendiamo e piazziamo Ok Poi facciamo l'accendino Ok, eccolo qua Tutti pronti Andiamo Allora Prendiamo l'accendino E facciamo così Ok Mangiamo E siamo pronti Allora la nostra missione è quella di prendere Delle blaze road E delle magma cream What the fuck Dove siamo spawnati? No, non ci credo Così in mezzo al nulla Ma che schifo Allora, tanto non c'ho niente di importante A parte l'accendino No, aspettate Poggio l'accendino Mi tolgo tutto dall'inventario E poi andiamo Che brutto però Così nel vuoto proprio Ok, vai Adesso possiamo andare Perché devo fare prima tutte le stradine Perché ho visto Diversi spawn di blaze E diversi spawn di magma cream Quindi vediamo un attimo Quindi vediamo un attimo Allora, quello è di pigman Ok Quello è di magma cream E poi di qua Uno di blaze E l'altro Non lo riesco a vedere bene Però credo siano Vedo qualcosa di nero Allora, quello di pigman Per adesso non mi interessa Quindi andiamo di qua Andiamo di qua Ricordo che posso morire Non mi interessa più di tanto Perché tanto Non mi interessa Perché Non ho niente di importante E poi sicuro Questi iniziano a spawnare A random proprio Quindi Aspetta Eh vabbè Le torce le metto Perché così si vede qualcosa Però se non ricordo male Non fanno niente Nel nether Le torce Sui spawner Allora Facciamo questa piattaforma In modo tale Da farli Spawnare Ok Vediamo un po' Allora Andiamo un altro po' di Qua Ok È già spawnato qualcuno Però è caduto di sotto Per fortuna Vai Siamo veloci 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 Ok Fatto questo Facciamo Cattrota Ok Ne è spawnato uno grande Mi sta facendo malissimo Mi sa che ci muoio Ok 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 Wait 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 a second Allora Vediamo se ci droppano subito La magma cream Aio Vai di sotto Vai di sotto Ok Non ce la sta notando Non ce la sta notando Allora Rompiamo un attimo qua Mangia Chiudiamo anche qui Ok Così non posso cadere di sotto Perché c'è il muro dietro Perché c'è il muro dietro E adesso dobbiamo soltanto uccidere questi tizi Ecco Dovevamo soltanto uccidere questi tizi E' abbastanza complicato Perché I signor magma Anzi Non so se signor o signora Vabbè comunque I magma cream Fanno molto danno Soprattutto quelli grandi Però dobbiamo riuscire A dividerli Perché comunque Sono enormi E poi Grazie a loro Prendiamo le magma cream Allora Vediamo un attimo Come fare Allora Eh niente Devo Far Far per forza così O se no Devo aspettare che Me le diano loro Ma a quanto pare No Lasciamoci un attimo Lo spazio nell'inventario Per vedere Però possiamo anche fare di questo Coprirci in alto Che guardate lui No ci prende lo stesso Adesso Ah io Fai pure molto male E casca qua Oh eccola Presa 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 Ok 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 Ora Arriva la parte Questa era la parte facile Ragazzi La parte complicata E andare Dai blades Quindi Che facciamo Noi Aspettiamo un attimo Nel senso Vi lascio con un po' di Suspons Quindi ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Di commentare Di condividere questo video E se non avete ancora fatto Iscrivervi al canale Pagina facebook In descrizione Instagame in descrizione Quindi Ciao a tutti da Blue Light Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti